Benvenuti in Yugo Boss Yugo Boss è un marchio di moda tedesco che ha iniziato a produrre orologi nel 1997. La sua attenzione ai dettagli e la qualità dei prodotti sono diventati sinonimo di eleganza e stile, conquistando il cuore di tutti coloro che cercano un orologio di alta qualità. Gli orologi Yugo Boss presentano un design elegante e sofisticato, con una cassa in acciaio inossidabile o in pelle, un quadrante in vetro minerale. Il marchio offre una vasta gamma di modelli, dalle linee classiche a quelle più moderne, e presenta funzioni aggiuntive come il cronografo, la data e il fuso orario. Inoltre, gli orologi sono dotati di movimenti di precisione svizzeri, garantendo l'affidabilità dei prodotti. Gli orologi Yugo Boss sono spesso associati all'eleganza e al lusso, indossati da celebrità come Gerard Butler e Ryan Reynolds. Inoltre, il marchio è sponsor di eventi sportivi internazionali, come il campionato di Formula E. La sua presenza in questi eventi testimonia l'attenzione del marchio alla qualità dei suoi prodotti, che sono adatti ad ogni occasione. In sintesi, Yugo Boss è un marchio di orologi di alta qualità, noto per il suo design elegante e sofisticato e l'utilizzo di materiali pregiati. Se stai cercando un orologio di lusso che possa accompagnarti in ogni occasione, gli orologi Yugo Boss sono sicuramente da considerare. La loro eleganza e la loro attenzione ai dettagli li rendono unici nel loro genere, perfetti per chi cerca un orologio di lusso che sia anche un capolavoro di design.